Il sistema sanitario regionale è vicino alla soglia di emergenza per quanto riguarda le terapie intensive dedicate al covid-19, ora al 27% rispetto alla quota d'allerta fissata al 30. 51 pazienti più 2 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri, infatti sono ricoverati in terapia intensiva, 491 più 4 rispetto a ieri in area medica e poco più di 10.000 invece sono a casa in isolamento fiduciario. Rispetto a ieri si registrano 241 nuovi casi di covid-19 di età compresa fra i 3 mesi e i 94 anni emersi dall'analisi di 3.062 tamponi molecolari e di 4.228 rapidi antigenici. Il tasso di positività è del 7,87% per quanto riguarda i tamponi molecolari e complessivamente scende al 3,3% se si sommano i test rapidi. Cresce ancora il bilancio dei decessi, 8 nelle ultime ore, per un totale di 1.526 da inizio emergenza. Del totale odierno però due casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Aumentano i guariti e questo porta alla diminuzione degli attualmente positivi, oggi 10.749, meno 205 rispetto a ieri.